Siamo Manzi, gara Moto2 conclusa, raccontaci cosa è successo, abbiamo visto un gesto brutto, il tuo punto di vista è che cosa ha scatenato questa reazione? Abbiamo avuto un giro primo in contatto al carro, però non voluto, diciamo che lui è arrivato lungo, io ho fatto la mia curva e quando ho rientrato dentro ci siamo toccati e purtroppo ci siamo finiti sull'erba tutti e due. Però dopo non mi aspettavo veramente un gesto così, è un gesto brutto e non c'è tanto da dire, si racconta da solo. Non hai avuto modo di parlare con l'incontrata appena gara finita con Romano? No, ma non c'è problema, anche se non l'incontro sto bene lo stesso.